È un viaggio interiore, in realtà parte con i piedi, con le scarpe, con uno zaino sulla schiena, con le persone. Scopri qualcosa di te e del luogo dove sei, ma soprattutto di te, quindi camminare è fondamentale. Cioè, abbiamo tutto, mare, montagna, colline, cibi buonissimi, come lo zafferano, che è una tipicità abruzzese. Non si usava qua. Noi lo coltivavamo, ma non lo usavamo. Il frano si vendeva. Si vendeva. Noi lo coltivavamo, ma noisora. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.